Allora questo pezzo è sentito da vent'anni che appuntamento qua esiste da vent'anni quest'anno quant'uno ne ha fatto quaranta Allora sta pezzo qua è sentito da vent'anni Vi sento la vicenda di Sonja Zomani 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 Allora sta pezzo qua è sentito da vent'anni Allora sta pezzo qua è sentito da vent'anni Allora sta pezzo qua è sentito da vent'anni La vicenda di Sonja Zomani Allora sta pezzo qua è sentito da vent'anni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.